Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo avanti con Dark Souls E siamo arrivati al boss Usando il bug che vi ho fatto vedere l'altra volta Se colpite quella parte del corpo del drago con un randello Occulto, cioè basta che è un randello Si apre la strada e voi potete passare di qua E ora cerchiamo di affrontare Questa qui Ah mi sono dimenticato di dire tra l'altro Che nello scorso video Cioè quell'umanità lì è comparsa per caso? No è che semplicemente credendo di avere le estus equipaggiate Ho premuto X E quindi ho usato l'umanità Ora per evitare ste cazzate Io faccio così Priscilla Ehm Uno dei personaggi più belli che c'è Potremmo andarcene tranquillamente Andando lì E buttufandoci Ma siamo qua per uccidere tutti gli boss Tutti gli boss Tutti i boss Quindi Con il framerate basso la vedo dura ragazzi Quindi stiamo sulla neve e vediamo un po' Ah Oh what the fuck Bevi bevi Guarda il sanguinamento Guarda Iia No 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 Sali 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 Io vedo dietro Oh cazzo lo sto toccando Che brutta frase Eh Eccola 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 La barra della vita Quindi non so Quanto danno Gli sto facendo Io sto temendo Per il fatto che Probabilmente Gli sto facendo Troppo poco Ora sta lì Quindi Oh No Se n'è andata Se n'è spostata Eccola Se è qui Circa No 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 Via 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 Ok No ma è vero Che non posso targettarla Non sono abituato Di solito Io targetto i nemici Io Ah Come hai fatto A prendermi Umanità Solo queste Per curarci Perderemo E anche male Dov'era La Dovrebbe Cioè Doveva stare davanti a me Per i passi Sulla neve Invece era dietro Se è qui Ah Era dietro E ingannano però Quei passi lì Sapete Perché non sono precisi Non sono Affatto precisi E io devo stare attento Perché lei Mi disintegra Ok È lì Era Mi ha colpito Da dietro E niente Umanità Vieni 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 Scudo E via Via di colpi Via Ah Sta qua Ha fatto la como Ma mi ha mancato E ho mancato anche io a lei Quindi Non è proprio una buona cosa Dov'è Quanta vita avrà ancora Ragazzi Secondo voi Dovrei giocarmela Più Cioè Attaccando di più Ecco Magari non così Ecco Appunto Sto avendo fortuna Perché mi sta colpendo di striscio Non mi sta colpendo bene Ed è questo Quello che Mi sta aiutando un po' Sbagliato ancora No L'ho colpita però via Ora via È dura eh Combattere un nemico Che non puoi vedere È durissima Devi imparare Capire La sua posizione Non così Magari Ora mi colpisce Guarda No Quasi È stata ferma Perché se si muoveva Mi prendeva Se camminassi E basta Tipo Uh Ti vedo Guarda È bellissima Lei No Voglio tagliarti la coda Ti prego Stai ferma È andata Dovevo tagliarle la coda Ma vabbè È andata così Non ce la faccio Già Già Torniamo indietro Voi vi chiederete Perché sto tornando indietro Perché voglio fare una cosa Oh è arrivato il signorotto Ma dov'eri tutto sto tempo Ecco appunto Soprattutto se non si hanno Estus Da usare Vieni più in qua eh Aspetta eh Aspetta 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 So che non dovrei curarmi Così alla cazzo Con le umanità Ma Sono un po' costru Eeeh Vi we 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 te Non caricarmi così Che io ho paura Eh Eh Io ho paura Di cadere anche Ok Vieni più in qua Vieni nell'arena Che combattiamo Leggermente meglio Oh È il tuo limite Ah Oh Sì è il tuo limite Ma mi prendi comunque Quindi sei un po' stronzo Mennaggia Non dovevi bere Bastardo Titanite grande Non mi ricordavo di loro Ok Ah ma non si può aprire la porta Da qua Oh cazzo Vabbè fa niente dai Volevo farvi vedere l'invasione di Xanthus E prendere la sua armatura ma Ma fa niente Fa niente Dai Non è successo niente Tanto non devo fare un lore through Non sto facendo una run di lore Una run di puro gameplay questa Su Dark Souls 2 però magari starò un pochino più attento Dico sempre così poi non faccio un cazzo Quindi vai È momento di tuffarci giù E tornare nel nostro mondo Ad Anor Londo Ok siamo ritornati Cazzo Questa è una cosa che non avevo previsto Aiuto Questa è una cosa che non avevo previsto Veramente Credevo Mi ero completamente dimenticato di essere morto lì Cazzo Perché se io muoio qui Ritorno lì Sto combattendo con la paura Non posso far perri Non posso schivare Come mi pare E non è una cosa che è bella Soprattutto per chi come me gioca Cazzeggio Cioè Non mi hanno sentito quei due Ma ho sentito quello laggiù Mi sembra Ovvio No? Cioè Boh Dai Perché giro la testa? Non Non ho un oggetto Che mi cura Per sprecare umanità Sto facendo quello che non dovrei fare Perché mi ha sentito lui e non lui? Perché? Vabbè Dai dai vieni Vieni in fretta Vieni in fretta Vieni in fretta Vieni in fretta Ok La paura ragazzi La paura Veramente Sto Non sto giocando sereno Appena tornerò al falo Giocherò Tranquillo Aspetto una Falò No micchia Non ho stamina Stavo pensando Il falo è spento Il falo è fottutamente spento Non credevo Me la droppassero Wow Cioè Sapevo che la potevano droppare Ma Io che ho sto culo Non me l'aspettavo Ah in destrezza 300 di sanguinamento 1,5 di peso È un'ottima arma Destrezza questa Peccato per lo scaling In E di forza Però Dai Dai Fa niente È un'unica pecca Io ho lasciato 45.000 anime Dai Amis Ma Sti cavoli Non c'ho proprio La voglia Di tornare lì Non me la sento proprio Qual è il falo Più vicino Gwendoline Gwendoline Quello dovrebbe essere rimasto acceso Spero Credo Quindi Vado lì Mi trasporto Dove Chi è il primo dei lord Che devo affrontare Sai che non ricordo E veramente Chi è il primo dei lord Da affrontare Cioè meglio Che posso affrontare Per la run Sit Oppure No Isalit Alla fine Chi manca I quattro re Quelli li posso fare I quattro re Dino qua Oh Micchia Sono un genio proprio Comunque mancano I quattro re City senza sky Isalit Che affronterò Alla fine E Chi è L'altro Nito Nito Che non voglio affrontare Ancora E Direi Che vado Dai quattro re Sì andiamo dai quattro re Sì Andiamo lì Tanto Oh Stavolta però Avanzate sto cazzo di livello Perché Oh Vitalità 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 Ormai forse destrezza Non mi servono più Per potenziare la claymore Torniamo magna A sto punto Tanto Oh Dai Ok Do andiamo Prima qui No Dove vado direttamente Ah beh sì Devo andare qui per forza Per andare dai quattro re Devo andare per forza qui E ci becchiamo direttamente A Petit Londo Che ormai sapete dov'è Ok Stavo pensando ora Che effettivamente Stavo pensando Effettivamente Che Dovevo andare Danito Cioè o meglio In parte mi conveniva Andare danito Perché Oh Questo qua L'ho mai visto Sì Volevo andare danito Perché Cioè mi conveniva Andare danito Perché per il semplice fatto Che battendo Girandola Avevo il rito segreto Per potenziare il falo A 20 fiaschette Per in modo da avere 20 fiaschette Ora Devo fare Ok si sono già messe lì Le maglie di segno Le maglie di segno Transitorie Servono per colpire I fantasmi Che altrimenti Normalmente Non si potrebbero colpire Uno Tipo potrebbe andare a pensare Vabbè Ho la spada Elementale Quindi fanno danni elementali Non sono danni fisici Quindi i fantasmi Li dovrei colpire Comunque No Serve per forza Questo oggetto qui Che io devo mettermi subito Righettalo Io Io la mia mira Non Cioè Ok In caso mi droppassero La loro arma Potrei evitare Di usare Le maledizioni Transitorie Perché La loro arma Se me la droppano Ovvero La lama Seghettata Dei fantasmi Colpisce I fantasmi Senza Questa maledizione Appunto Quindi È un'ottima cosa Ora io Qui devo stare attento Perché qui c'è una cosa Che mi interessa Eccolo qua Non capisco Come facciano Dei fantasmi Ad avere una Fisica Ma Oh 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 Che coiore che sono Oh Le anime Delle guardiane Di Di Stamichia E Non ho potenziato Le fiaschette Eh Non le ho potenziato Potevo portarle a più Posso portarle a più Quattro ora E non l'ho fatto Perché sono un emerito Idiota Ah Perché Vabbè Una mi scoccio di tornare indietro Proseguiamo Mi scoccio di tornare indietro Non c'ho proprio La voglia Nel mio corpo Andiamo avanti Vediamo un po' Fin dove si riesce ad arrivare Va Allora la cosa è che Loro fanno poco danno Il problema È che Comunque Non ti devi far Prendere Perché Cioè O meglio Fanno delle mosse di presa Che Forse Sono l'unico pericolo Effettivamente Però Appunto Queste mosse di presa qui Sono Piuttosto Pericolose Lo scudo contro il loro Mi sembra che Sia inutile No Non si può usare Vediamo un po' Ma l'è sciotto anche una mano No E allora E allora due mani Sia Mi ha mancato Mi ha preso Ok Due mani Tanto lo scudo Neanche mi ricordo Di usarlo Quindi Oh Oh Dimmi che ti Pre Il raggio Il raggio di quest'attacco Qui È penoso Cioè Sembra un raggio Decente No Fa schifo Fa schifo Devi avere il nemico A un millimetro di distanza Per poterlo Uccidere Per poterlo solo Colpire Con quell'attacco lì Ah Ho visto Qualcuno dietro Ora qui c'è l'imboscata Vero Oh Vaffanculo Pugnale difensivo La descrizione del pugnale difensivo È Bastanza interessante Perché dice che Lo usavano solo La storia Che non usavano lo scudo Ma usavano quel pugnale lì Per difendersi Per Indagger In inglese Mi sembra Credo Forse Boh Ah Questa è di quelle là più resistenti Però muori Oh Buono 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 Ma i miei transitori Si possono anche comprare Non mi ricordo da chi ora Mi sembra dalla mercante Quella là dietro le gabbie Al borgo Dei non morti Però Io preferisco trovarle Perché Oh Eh Eh Ma che Eh Cosa Non è che puoi scendere tu Eh stronzo Calcia a scala E' uno shortcut Ehm Dove si va Non Non ricordo Non ricordo Un Ma è uno shortcut O no O è una zona Un'altra zona proprio Eh Va a cagare Non mi preoccupo tanto Di quando mi colpiscono Quando sono Per esempio Ecco da soli Quando sono in gruppo Che Che ho paura Eccala Ma sono sicuro Che io cado E faccio la fine Più brutta Di 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 tutto Dark Souls Sono sicuro Sono Dai Ma non c'è niente E mi tocca Ritornare indietro Oh Ma non potete farmi venire Gli infarti In questo modo Però Uffa Uh sono riuscito A tornare alla scala Uh Mi è andata bene Sicuro Va bene E dato che sto a 22 minuti Di registrazione Termino qua il video Dato che però Voglio continuare a giocare Ne faccio subito un altro Quindi Alla prossima Ciao Ciao